Per noi le start-up sono una fonte importantissima di idee, di iniziative, anzi dovremmo fare di più, dovremmo non solo permearne di più come facciamo oggi con questa start-up, ma dovremmo sostenerle. In questo senso il distretto aerospaziale Campania ha fatto un accordo importantissimo con Intesa San Paolo perché le start-up hanno bisogno di essere seguite e di avere risorse finanziarie sul lungo termine, non solo per la primissima fase della loro vita e quindi noi siamo felici ed è normale che siamo qui. Tutti come Paese abbiamo la necessità di aumentare i nostri lanci nello spazio, ad esempio proprio per portare nello spazio le idee di altre start-up, però i costi dei lanci sono enormi. L'idea di usare dei droni a basso costo, riutilizzabile ai personici, ci sembra un'ottima idea per abbassare il costo dei lanci e quindi rendere possibile l'accesso a sempre più iniziative.